Quasi 13.000 compratori registrati, di cui il 33% dall'estero, in rappresentanza di oltre 6.000 aziende di vendita e distribuzione, con un aumento del 200% rispetto al gennaio 2022. I numeri non lasciano spazio a dubbi. L'edizione numero 103 di Pitti Immagine Uomo alla fortezza da basso di Firenze è stata più che positiva, con quasi 800 collezioni di moda presentate, oltre agli eventi speciali in altri luoghi della città. I primi mercati esteri più presenti alla kermesse della moda sono stati Germania, Olanda, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Spagna. Però va segnalato un grande ritorno dei migliori compratori asiatici. Dal Giappone sono arrivati quasi 200 compratori, erano stati appena 6 nel gennaio scorso, e dalla Corea sono stati più di 130 rispetto ai 5 di un anno fa, così come sono tornati i buyer da Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapore e Thailandia, paesi che all'ultima edizione invernale erano stati quasi assenti. Altro dato interessante è il risultato delle presenze dei compratori dai paesi nordici e scandinavi, Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia, già a quota 214 in questa edizione, mentre erano stati 60 in totale l'inverno scorso. Da segnalare pure gli exploit di Israele, Messico, Canada e Irlanda, oltre ai numeri in grande ripresa dei paesi dell'Europa orientale e del Medio Oriente.